Le prime parole degli altri sindacialetti di alcuni dei 31 comuni abruzzesi in cui si è votato. Antonietta Casciotti è sindaca di Alba Adriatica per la quarta volta con il 57.74% e il microfono di Lorenzo Valeriani. Se l'aspettava, secondo me sì. Ci speravo e in parte ci credevo perché ero convinta che il lavoro di un gruppo che ha dato tanto in questi cinque anni per questa città fosse compreso dalla comunità e così è stato. Anche ad Atri è riconfermato il sindaco del centrodestra Pier Giorgio Ferretti che ha vinto al fotofinish con il 50.9%. Nino Centurame ha racconto le sue dichiarazioni a caldo. Sapevamo che questa volta era molto molto difficile perché la campagna elettorale è finita, si erano riuniti tutti insieme. Il centrodestra non ha perso voti, siamo sempre a quota 3.000, invece quelli che l'altra volta avevano collezionato 3.700, insomma si sono fermati a poco meno naturalmente di 3.000. Riconferma che per Gino Cantò 61.12% al microfono di Katia Napoleone. Il primo punto nell'agenda tra gli applausi degli abitanti di Cepagatti. Il primo punto è l'asilo nido comunale. Per la prima volta dopo 30 anni riusciamo a fare a Cepagatti un asilo nido comunale. Spenderemo circa 1.700.000 euro e questo è un vando. Per cui ecco veramente noi ci teniamo a spendere i fondi del PNRR. Oltre a questo andiamo a fare la ristrutturazione di tutte le scuole del paese. E sempre Katia Napoleone a Pianella ha intervistato il neosindaco Teddy Manella con il 56.26% dei voti. Il suo messaggio da rivolgere come primo cittadino ai suoi concittadini. Sono uno dell'agenda e voglio essere il sindaco dell'agenda, un sindaco per l'agenda ma soprattutto un sindaco in mezzo all'agenda. Uno dei primi obiettivi è quello di andare a trovare le famiglie una volta a settimana. Questo sta a significare che veramente voglio ascoltare tutti a casa loro e non alla porta dell'ufficio del sindaco. Ancora nel Pescarese a Loreto Aprutino Renato Mariotti è il sindaco, 50.1% la percentuale di preferenze. Ha vinto il sindaco, ha vinto l'IDA del comitato, ha vinto la lista 20-30 che ha chiamato in causa a tanti giovani in una partecipazione attiva. Ha vinto Loreto Aprutino perché sono oramai quattro anni che il comitato lavora su Loreto. Pensiamo al futuro, il primo punto dell'agenda non può che non riguardare le risorse della terra di Loreto. Assolutamente sì, le nostre eccellenze sia dal punto di vista agricolo sia dal punto di vista storico e architettonico.